Io sono felicissimo di dovesse arrivare domani, anzi ieri, l'acqua della diga del Monte D'Oglio perché è importante per noi, per la gestione proprio dell'acqua. Arriva anche nell'Arettino il piano Laghetti. Il consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha infatti ufficializzato il piano nazionale messo a punto con Coldiretti da realizzare entro il 2030 e che interessa anche il comprensorio Alto Valdarno. Questa azienda che si trova nel cuore della Val di Chiana, praticamente a Foiano della Chiana, è dedicato a culture orticole per circa 60 ettari, tutte quante irrigate con l'irrigazione a goccia. Noi siamo in perenne difficoltà di acqua perché usiamo questi bacini, ma questo bacino, come quello che vediamo alle nostre spalle, è un bacino da 40.000 metri cubi. Quindi abbiamo anche dei grossi rischi di avere la certezza dell'acqua perché non è detto che ci sia acqua quando ne abbiamo bisogno. Nel territorio articolato in 54 comuni e tre province, sono stati individuati alcuni siti per la creazione di piccole infrastrutture doc destinate alla raccolta dell'acqua e capaci di coniugare difesa idraulica, disponibilità di risorsa per uso irriguo o plurimo, miglioramento dell'ambiente e produzione di energia rinnovabile. Il vantaggio del monte d'olio è che abbiamo una pressione costante sempre e poi c'è un vantaggio che quanto riguarda la filtrazione dell'acqua, che viene in acqua perfetta, non abbiamo bisogno di filtrare oppure di fare altri trattamenti. Un progetto strategico anticipato alcuni giorni fa dalla presidente del consorzio Serena Stefani al forum dell'acqua organizzato da Lega Ambiente alla Casa delle Energie di Arezzo.